Siamo giunti al capolinea, eh? Ultimo brano. No, no, vediamo se lo indovinate. Qual è l'ultimo brano? Qual è che non può mancare? Ammazza come si sono preparati. 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 Alla batteria, Rizziero Pixio Alle percussioni, Massimo Ventricini A completare il motore di questa band, al basso e al contrabbasso Massimiliano Pischetta Alle chitarre, Federico Labbiento Pianoporte e tastiere, Damiano Rozzi All'idea di mettere su questa band e di coinvolgermi E quindi lo ringrazio Luca Rizzo Volevo ringraziare un'altra persona che ha partecipato, grazie a questi concept di immagini e di video A questo viaggio che abbiamo fatto insieme Un viaggio che vi abbiamo proposto ma che voi avete accettato di fare insieme a tutti noi E quindi in qualche modo, se siamo partiti in un modo Arriviamo all'altra sfonda che siamo cambiati, no? Avete raccolto le emozioni? Scrivetele sul quadernino nostro, sul diario di bordo Ludovica Valeri, un applauso grandissimo Ma dove sei Ludo? Ludovica, non si vede Vieni qua Vieni qua, vieni qua, vieni qua Ludovica Valeri Alla voce Sara Svileo Noi siamo in Sud 41, seguiteci Noi siamo in Sud 41, seguiteci Grazie Grazie a Stazione Birra, grazie al fonico Alex che ci ha seguito Marco alle luci e alle proiezioni Grazie a tutti, grazie ai miei compagni di viaggio Fantastici Uno, due, tre Uno, due, tre Grazie a tutti 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 Grazie a tutti